Ora vediamoci alle 5 del mattino, va bene l'orario? Vediamo adesso se si lamenta. Bene, mi sono svegliata alle 5 e ora qui che cosa faccio? Aspetto, e aspetto, e aspetto. Due ore dopo ti aspetto. Oh, che buio non è, nemmeno sotto il sole un altro po'. Ma quante tende mettono qua dentro? Quante tende? Quanto prendono un bicchiere d'acqua in cucina? Anzi un caffè, due caffè. Ah, buongiorno al mondo. Alla buon'ora, Showbaby. Vedi che io questa mattina mi sono alzata alle 5 del mattino. Ah sì, ti credo proprio. Ma non mi crede mai. Mamma mia, tutto inutile. Ah, Showbaby carati, senti volevo farti vedere la nuova fontana. Fontana? Non sapevo che avevate anche una fontana in questo palazzo. Ma che cosa credi? Fuori, stavo dicendo io. Dai, vieni a vederla. Dobbiamo ancora mettere l'acqua. Va bene, però non è meglio chiederlo alla regina. Oh! Guardala, non è meravigliosa? Sì, è molto bella. Wow. Vieni a vederla, dai. È fatta con l'orocolato e il gento. Dai, vieni, vieni. Questa mattina ho anche mal di testa questa mattina. Mal di testa e mal di gola. E allora devo subirmi anche a lei. Ma cos'è quella? Ma è una pietra. Wow. Forse è di Glinda. Glinda! Però sembra quella lì che io e Chopin abbiamo vinto una garden banno. Ma vabbè, quella lì è dorata. Vorrei tanto provarla. Ora la metto sulla mia piuma. Come sta? Ma che succede? Oh, oh, ma che strano. No, più di là, più di là, mamma mia, questo camion. Ecco, Gigi, Gigi a destra, sì, 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 proprio lì. Attenzione! Sì, ora così. Che ne dici, cara? Sobebi? Sobebi, dove sei? Sono qui davanti a lei, Glinda, non mi vede? È uno scherzo di cattivo gusto. Dove sei? Sobebi? 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 Oh! Oh! Ti è fatta male. No? Ma dove sei? Devo aver sbattuto contro qualcosa. Un sasso? No, qui non ce ne sono. Sobebi? Ma che strano. Provo ad entrare dentro. Ah, che bel giorno. Ciao, Fancy. Oh, Sobebi, dove sei? Sobebi? 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 E se provassi a togliere questa pietra? Sobebi? Fancy, dove sei? Dove sei? Sono qui! Dove? Dietro di te! Dove? Dove dietro di me? Tonta! Ah! Oh, Fancy, ti si fatta male? Tutto bene. A me non sembra. Dai, alzati. Ma scusa, dove eri nascosta? Non mi ero nascosta. Ho messo questa pietra sulla mia piuma e sono scomparsa. Ero invisibile. Allora è stata la pietra. Dove l'hai presa? L'ho trovata per terra, nel giardino di casa tua. Deve essere di Glinda quella gemma. Beh, la chiamo. Glinda! Glinda! È sua questa gemma? Caspiterina, quanto è scuro questo palazzo. Ma... Dove hai trovato quella pietra? Beh, l'ho trovata nel giardino del palazzo. E perché lo mi hai avvertito? Beh, l'ho fatto ma non mi ha segnito con quel clacson. Io stavo spostando la fontana. La nuova fontana meravigliosa. Beh, questa dammela me e te ne troverò una ancora più bella. Fidati! Oh! Era molto strana Glinda. Sì, l'ho trovato anch'io molto strana. Ecco, tieni. Questa è molta più chiara dell'altra. Qual è l'altra? Dove... Che cosa le ha fatto? Oh, io! Che cosa dovrei fare? Una pietra? Comunque tieni pure quella gemma. A me non serve. Vabbè, poi io di niente non offensi. Esatto. Come mi sta? Che dici? Molto bene. Grazie. Lolline, lolline. Salve! Aspettate, mi porto fuori che c'è più luce. Eccoci qua. Che dite? Come vi sta? Bene? Glinda sta nascondendo qualcosa che noi scopriremo. Comunque vi mando un bacione e un abbraccio al prossimo video, eh? Ciao, ciao, lolline, lolline. Ciao. Non posso rischiare. Con quella gemma Devo ritrovare Dorothy. Do ti? Sve? Chi? Sve? Grazie a tutti.